Oggi parliamo della vitamina D e cominciamo subito con una promessa. Non sarà un video in cui parliamo per partito preso degli effetti miracolosi della vitamina D, ma sono sicuro che alla fine di questo contenuto ne saprai qualcosa in più e il misterioso mondo della vitamina D ti sarà un pochino più chiaro. Ho deciso di pubblicare questo contenuto perché davvero c'è troppa confusione sul tema. Si passa dall'assoluta ignoranza fino alla convinzione di dover assumere ogni giorno che sono megadosi di vitamina D per curare praticamente qualsiasi malattia. Ma alla fine chi ha ragione? Io sono Nicola Triglione, medico cardiologo ed esperto di biohacking, l'anello di congiunzione tra performance e salute. Oggi condividerò il mio approccio, cioè quello che consiglio ai miei pazienti nel momento in cui li visito in studio. Può sembrare scontato ma non lo è. Il mio approccio è frutto di un aggiornamento scientifico continuo a suon di articoli, di riviste, di pubblicazioni, non di gruppi Facebook. Così, per dire. Che cos'è la vitamina D? La vitamina D è una vitamina liposolubile, anzi, mi correggo subito. È conosciuta come vitamina liposolubile, ma in realtà si tratta di un vero e proprio ormone. Perché si comporta da ormone e tra l'altro ne condivide la struttura chimica. Tra le altre cose condivide con gli ormoni steroidei anche il precursore, cioè i mattoncini che servono a produrre la vitamina D. E questi mattoncini non sono altro che formati dal nostro carissimo amico colesterolo. E questo è solo uno dei tantissimi motivi per cui non dobbiamo demonizzare il colesterolo, ma dobbiamo studiarlo a fondo. Come abbiamo fatto nel video colesterolo e farmaci, ricordi? Ma dove si trova questa vitamina D? Pochi in realtà sono gli alimenti che contengono quantità apprezzabili di vitamina D. Parliamo dell'olio di fegato di merluzzo, piuttosto che di pesci grassi come salmone e eringhe, ma anche uova, fegato e carni rosse. Come si produce allora questa vitamina D? Almeno 20 minuti al giorno di esposizione solare, un'esposizione che deve essere di almeno il 40% della superficie corporea. Quindi, minimo, magliettina e pantaloncini. E questa esposizione deve essere importante perché deve essere fatta quando l'UV index, l'indice dei raggi UV, è superiore a 3, tendenzialmente tra le 10 e le 15, dalla fine della primavera all'inizio dell'autunno. Ah, attenzione, questo tipo di esposizione funziona per produrre la vitamina D quando è condotta senza crema solare. So già cosa stai pensando, il sole è veleno, abbiamo bisogno di crema solare anche quando ci affacciamo alla finestra. Ma la realtà è che un'esposizione così limitata nel tempo, parliamo di circa 20-30 minuti, ogni giorno non produrrà nessun tipo di danno. Qual è però la realtà? Anche in estate, quando dovremmo passare le nostre giornate al sole, scoperti a fare il chiarico di vitamina D per i mesi invernali, in realtà trascorriamo le nostre giornate al chiuso, sotto la luce artificiale e attenzione a scoprire anche braccia e gambe perché c'è un pericolo mortale di esposizione ai raggi solari. Questo comportamento che cosa ha prodotto? Ha prodotto che più dell'80% della popolazione presenti dei livelli di insufficienza, dove per insufficienza intendiamo una quantità di vitamina D circolante nel sangue inferiore o uguale a 30 nanogrammi per ogni millilitro di sangue. All'interno di questa categoria, in cui si parla di livelli insufficienti di vitamina D, troviamo anche coloro i quali sono in vero e proprio deficit, cioè presentano un valore inferiore a 20 nanogrammi per ogni millilitro di sangue. Quindi, mi raccomando, prima di parlare di integratori, prima di parlare di pillole, cominciamo con l'esposizione solare. Cerchiamo di capire come ottimizzare il nostro tempo all'esterno e come esporci in maniera appunto funzionale per i nostri bisogni senza farci del male. Non a caso, se non vi ricordate, ci siamo evoluti stando al sole, non prendendo delle pillole. Questo perché l'esposizione solare è di gran lunga migliore rispetto all'assunzione di pillole. Per un semplice motivo, esporsi al sole non vuol dire solo vitamina D, ma vuol dire anche tantissime altre molecole. Uno su tutti l'ossido nitrico. Una molecola fenomenale che fa davvero tantissime cose per il nostro benessere e la nostra salute. Dopo questa introduzione siamo pronti per capire quali sono gli effetti della vitamina D nel nostro corpo. La vitamina D in realtà è conosciuta principalmente per il suo ruolo nel metabolismo dell'osso e nella prevenzione e supporto alla terapia di osteopenia e osteoporosi, quindi una riduzione della densità mineraria dell'osso. Ma in realtà la vitamina D fa molto di più per un semplice motivo. Non solo aumenta l'assorbimento intestinale di calcio, e questo è il meccanismo per cui supporta l'osso nelle sue funzioni, ma esplica tutta una serie di altre funzioni sistemiche, cioè in tutto il corpo, per un motivo molto semplice. I recettori della vitamina D si trovano in tutto il corpo, non solo in corrispondenza di osso e intestino. Qui prima grande pausa di riflessione. Sebbene i recettori della vitamina D si trovino praticamente ovunque all'interno del nostro corpo, questo non è un motivo per aspettarci degli effetti miracolosi o assumere la vitamina D pensando di essere arrivati alla pietra filosofale, al sacro graal, all'elisir di lunga vita. Adesso vedremo perché. Passeremo in rassegna con l'elenco che segue tutti quelli che sono i benefici presunti e reali dell'assunzione della vitamina D. Effetto sul metabolismo dell'osso e sulla prevenzione di osteopenia e osteoporosi. Vero, non è confermato solo da studi osservazionali, quindi studi con bassa evidenza scientifica, ma in realtà è risaputo. È il primo motivo per cui dobbiamo cercare di riportare il nostro livello di vitamina D ad un target ottimale. Però, grande postilla, l'effetto della vitamina D sull'osso è inferiore rispetto all'effetto dell'attività contro una resistenza sull'osso, che vuol dire attività contro una resistenza, pesi, palestra, macchine, esercizi funzionali sfruttando solo il nostro peso. Quindi anche qui, se parliamo di vitamina D e osso, dobbiamo anche ricordarci che un effetto importante sull'osso è dato anche da un particolare esercizio fisico, l'esercizio contro una resistenza. Andiamo avanti con i benefici. La vitamina D è essenziale per la maturazione delle cellule del sistema immunitario. Verissimo, anche questo non è frutto solo di studi osservazionali, ma di studi come i trial clinici, quindi studi con un'evidenza scientifica maggiore. Possiamo quindi affermare che assumere la vitamina D con l'alimentazione piuttosto che con un integratore o sintetizzarne di più grazie ad una maggiore esposizione solare riduce la probabilità di infezioni del tratto respiratorio o comunque in generale di malanni stagionali. Visto l'effetto a supporto del sistema immunitario, dobbiamo anche parlare del ruolo della vitamina D, o meglio dell'ormone D, nei confronti di quelle che sono le malattie autoimmunitarie. In questi pazienti rappresenta un supporto importante proprio perché sappiamo che la vitamina D rappresenta una molecola simile agli ormoni steroidei, perché ne condivide la struttura chimica e sappiamo anche che gli ormoni steroidei come il cortisone, tutti i derivati, rappresentano le molecole alla base della terapia per le malattie autoimmuni. Quando in un altro video parleremo di quanta vitamina D prendere, vedremo che questa particolare categoria è uno di quei gruppi in cui effettivamente bisogna fare più attenzione ai livelli e si può assumere un dosaggio giornaliero maggiore rispetto a quelli che sono gli standard consigliati per la popolazione generale. Andiamo avanti con i benefici. Riduzione della pressione arteriosa, quindi supporto nella terapia per l'ipertensione arteriosa. Falso. Qui in realtà gli effetti che noi abbiamo sulla pressione arteriosa li abbiamo notati solo in studi osservazionali, quindi ripeto per l'ennesima volta studi con bassa evidenza scientifica e non in trial clinici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio l'esposizione solare è migliore dell'assunzione della vitamina D nei pazienti con ipertensione arteriosa per un semplice motivo. Se noi ci esponiamo al sole produciamo anche un'altra molecola, come abbiamo detto l'ossido nitrico, che è un fenomenale vasodilatatore. I vasodilatatori sono i principi attivi tra i più utilizzati nelle persone con ipertensione arteriosa. Attenzione, per produrre l'ossido nitrico in realtà non dobbiamo aspettare che l'indice dei raggi UV superi i 3, quindi non dobbiamo per forza esporci tra le 10 e le 15, ma in realtà anche negli orari più vicini all'alba e al tramonto, perché quello che ci serve per produrre l'ossido nitrico in realtà è l'esposizione alla radiazione infrarossa contenuta nei raggi solari. Andiamo avanti. Tono dell'umore e depressione? No, purtroppo nessuno studio importante ci ha segnalato un effetto della supplementazione con la vitamina D su queste problematiche. In realtà però sappiamo che anche qui l'esposizione solare per via della produzione ormonale e di neurotrasmettitori può aiutare tantissimo questa categoria di persone. Riduzione del rischio di tumore e di malattie cardioscolari. Questa è una delle affermazioni che solitamente accompagna di più quelli che sono i contenuti, gli studi osservazionali, ma anche i blog, i gruppi Facebook che parlano di vitamina D. La realtà è che recentemente lo studio Vital, uno studio che è stato pubblicato dal New England Journal of Medicine, quindi semplicemente la più autorevole rivista scientifica, ci ha detto che no, l'assunzione di vitamina D non riduce la probabilità di tumore, non riduce la probabilità di malattie cardiovascolari. Per oggi è tutto, sono sicuro che non ti aspettavi di trovare un contenuto del genere, ma adesso sarai ancora più confuso nei confronti di questo tema. Ma non aver paura, anzi iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video, perché sicuramente ci saranno altri video sul tema della vitamina D. Nei nuovi contenuti parlerò di esami da eseguire e dosaggi da assumere. Scrivimi nei commenti qual è la tua esperienza con la vitamina D e se hai ottenuto dei benefici dopo aver cominciato una supplementazione.